POPPY BISHOP! Dov'è ora? Non lo so. Mi rendo perfettamente conto che sono depresso. Vai in scena e gli fai vedere chi sei. Ho bisogno di ispirazione, amici. Di quello che vuoi. Ti ha detto? Ti ha detto? Hai chiuso! Che cosa ha detto? Io la faccio pagare, sta tranquillo. Che ho fatto? Tu sei un conduttore di talk show. Sei la voce dell'America, quindi devi rispettare delle regole. Non ce la faccio. Me ne vado a New York. Ellie! Non fare così, non sparire! Perché? Perché tu sei l'unico che può permettersi di sparire! Sono malato! Malato d'amore! Ellie!